sono franco martinelli insegnante di contrabbasso e basso elettrico queste sono basi per esercitarsi con il contrabbasso sia con la tecnica dell'arco sia impizzicato utilizzando lo stesso studio tratto dal metodo billet gli esercizi andranno dalla prima posizione fino alla settima nel video troverete le due versioni buono studio e alziamo i bassi ciao e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.